Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo BIP. Oggi siamo qua per vedere le interviste. Come potete vedere c'è la micola che sta recando e dietro abbiamo un'altra telecamera che è la GoPro Dino Session che la Rends che è il Nikon D3100 offerto per il caro di il canale. E niente, riusciamo all'epoca. No, non mi risulta. Magari può capitare, assolutamente no. Di proposito no. Il problema è lo stomaco ce li possiamo dare tutti. Basta trattenersi. E questo è un'educazione che dovete imparare da me ragazzi. E' una cosa fisiologica a seconda di tante cose, tante cose legate alla digestione. Esatto. Quindi come magari purtroppo anche... No perché c'è gente che viene fuori. No, basta trattenersi, basta imparare. E non ci sono di allenamento come le farolacce. esatto. Basta trattenersi. E tutto. Grazie mille. Grazie, arrivederci. Grazie. Allora, volevo chiederle se anche lei scorretta. Ma te l'ho detto che non t'avrei risposto. Ok. Allora, siamo qua con due giovani ragazze. Allora, questa è una domanda che ci siamo un po' chiesti. Dato che le ragazze non si vedono mai in giro che scorreggiano, vuoi scorreggiare? No, è una domanda. No, per chiedere. Ma che schifo. Ma dai, non lo fate qua perché sennò... Quindi anche le ragazze... Abbiamo la prova, scorreggiano. Anche tua mamma le fa sicuramente. E quindi anche perché la mamma è una famiglia. Esatto. Ah, quindi non vale nessuno. Esatto. Era comunque per sapere se scorreggiavamo. Esatto. Buongiorno, siamo qui con questa ragazza a cui vorremmo fare una domanda. E hanno chiaro che siamo in mezzo alla fine. Allora, innanzitutto, sai che cos'è il salame felino? Sì. Salame di parma. Più o meno. No, 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 no. Abbiamo i segnerimenti dalla regina. Cosa ne pensi del salame felino? Cosa ne pensi? Che è buono, è buono. Anzi, preferisci il salame. Bello consistente. Questo gesto? Bello consistente. Perfetto. Qui, grosso e consistente o sottile e consistente? Consistente. Che per consistente sappiamo tutti cosa intende dire. A grana fine o grana... A grana dura. A grana dura. Vabbè, io opterei su grosso e consistente. E ci sono. Quindi opta per grosso e consistente. Ma la vera domanda è lungo o corto? Longo, lungo. Perfetto. Aspetta, l'ultima domanda. Qual è il pacco più grosso che dice? Ma raga. Ma che domande sono? Va bene. Allora, lei piace il salame felino? Grosso. Grosso e consistente. Il pacco è consistente. E lui. Preferivo la domanda di prima, però. Anche te, scoreggi? Anche io, scoreggi. Ringraziamo questa simpatica ragazza per questa... E anche quella dietro di noi. Anche quell'altra. Questa è in BN. E niente, raga. Ciao. Zima tag. Ciao. Io ci ringrazio a me. Ciao, ciao. Ciao. Ciao anzi. Ciao, ciao. arriviamo a 15 like per una prossima parte e a 20 like se volete lo speciale 150 sitoli alla prossima Grazie per la visione